La Regione chiama e il MIT non risponde, è come scontrarsi con un muro di gomma, dice Luca Cascone, il Presidente della Commissione Regionale Trasporti, durante il Consiglio Comunale Straordinario di Ariano Erpino dedicato alla Lioni Grotta Minarda. Io credo che nessuno veramente si ponga il problema di quello che succede. Io quello che ho detto dall'inizio è stato che cosa accade quando si ferma il cantiere e quando si scrive un euro di riserva contabile sull'opera. Chiunque subentra si deve far carico di questo condenzioso, si deve far carico di questa chiusura. Mi sembrava una cosa ovvia e banale, oltre alle ricadute economiche, gli operai in mezzo alla strada, insomma tutto quello che mi sembra ovviamente grave che accada, ma che accadrà quando un cantiere si blocca. Ho chiesto questa cosa e nessuno mi ha saputo rispondere, nessuno mi ha dato una soluzione. Abbiamo accompagnato l'ANAS quando era l'ANAS che sembrava dovesse subentrare, abbiamo accompagnato la Regione Basilicata che aveva ovviamente fatto delle valutazioni, abbiamo detto ci siamo noi, abbiamo fatto una lunga ipotesi, perché questa cosa non ha trovato una soluzione per tempo, onestamente non ne sono a conoscere. Ormai in Italia se ne vede di tutti i colori, stiamo parlando della TAV, questa può essere una piccola TAV campana. Il tema è particolare, il problema è che noi annunciamo troppo che ci sono stati furti, malaggestio, problematiche, soldi sprecati dal punto di vista dell'annuncio. Poi se andiamo nel merito non mi pare che ci sia nessuna denuncia penale contro qualcuno per aver violato qualche legge o aver ovviamente operato in maniera inopportuna e quindi una denuncia alla Corte dei Conti. Quindi tutto questo, le parole non subito nei fatti, ma poi del resto il problema resta sul tavolo. Sono 44 giorni che i cantieri sulla Lioni Grotta si sono fermati. Da quando a Roma si è deciso di non prorogare il mandato del commissario ad acta, a Filippo D'Ambrosio e a un tiro di scoppio dal traguardo. Rivolgiamo il commissario, vogliamo che la Lioni Grotta venga portata a termine. Con questo appello 15 sindaci firmano un documento da inviare al Ministero di Toninelli al termine del partecipato e animato Consiglio Comunale straordinario di Ariano Erpino. Oltre alla politica locale, in sala il presidente di Confindustria Avellino, Giuseppe Bruno, lancia i sindacati del settore costruzioni, gli imprenditori e i lavoratori delle aziende che fino al 31 dicembre hanno lavorato alla realizzazione dell'opera. De Luca Cavir Calcestruzzi, lei è uno dei fornitori per questa opera. Qual è la situazione ad oggi per voi? La situazione è che noi praticamente stiamo fermi già da alcuni mesi, mandiamo un gradito abbastanza importante. Sono stato costretto a licenziare dopo 50 anni di attività alcuni lavoratori, non riesco giustamente a onorare i pagamenti. Che cosa chiedete alla politica? Alla politica, guardo, io chiedo la cosa più importante è sicuramente di sbloccare quest'opera perché è un'opera abbastanza importante, non so se si rendono conto di questa situazione. questo è quello che noi chiediamo, lavoro e pagamenti e basta.